Vuol dire gestire anche ciò che abbiamo già in casa, non dimenticandoci però che in questo Paese, al di là di quelle che sono le regioni che invece hanno un tasso di disoccupazione che è sotto quella che viene considerata la soglia frizionale, invece abbiamo delle regioni in cui il tasso di disoccupazione è alto. Noi non possiamo lasciare indietro quei cittadini e quelle cittadine e dobbiamo fare in modo invece di portarle al lavoro prima ancora, se me lo consentite, di guardare a quelli che possono essere i flussi migratori regolari che possiamo certamente gestire. Vuol dire costruire un percorso di integrazione che attraverso anche le moderne tecnologie ci consenta di gestire correttamente quelle che sono anche le allocazioni e quindi il posizionamento delle persone sul nostro territorio. Non facendo una valutazione su un'area geografica o su un'altra, ma invece rispondendo alle esigenze dei singoli territori, perché poi sono i territori l'elemento vincente di quelle che sono le nostre riflessioni. Avere un occhio e soprattutto un'attenzione specifica allo sviluppo territoriale vuol dire anche valorizzare quelle che sono le competenze del territorio, le eccellenze del territorio, dando anche al territorio la possibilità di poter costruire dei percorsi attraverso anche quelle che sono delle buone prassi, una formazione professionale di qualità degli ITS che ci stanno dando dei grandi risultati. Finisco dicendovi proprio questo, che per quanto riguarda la formazione professionale e anche gli ITS, soprattutto al Sud, già all'anno scorso, rispetto all'anno precedente, c'è stato un aumento della percentuale degli allievi frequentanti del 330%, mentre del centro-nord del 150%. Vuol dire che le famiglie ci stanno credendo, perché questo è il concetto. Quando noi diciamo ai nostri figli che devono fare quello che vogliono purché non lo facciano in Italia, non facciamo un grande servizio al nostro Paese. Invece noi dobbiamo dire ai nostri ragazzi che devono credere nel nostro Paese, si devono impegnare per lavorare in Italia e per continuare a rendere grande il nome dell'Italia nel mondo, visto che l'Italia nel mondo viene percepita come un'eccellenza e come sinonimo di qualità. Mi fermo qui. Grazie. Grazie.